Dopo il tempo delle polemiche e dei ritardi, vergognosi ed inaccettabili, arriva il momento dell'intervento e si accende qualche speranza per l'eliminazione della frana che sulla A18 all'altezza dell'abitato di Letoianni ostruisce la carreggiata in direzione Catania. Sono trascorsi poco più di due anni e adesso a breve dovrebbe essere presentato per ottenere le approvazioni e diventare esecutivo il progetto redatto dall'ingegnere Fabio Cafiso. Questa la promessa del Consorzio Autostrade Siciliane che in conferenza stampa ha illustrato il tipo di intervento alquanto complesso che prevede la creazione di due nuove gallerie e garantirà il ripristino della viabilità. Intervento che si annuncia più costoso del previsto, la stima iniziale era di 10 milioni, di cui 4 messi a disposizione della protezione civile e 6 a carico del CAS. Invece, secondo i nuovi calcoli, ci vorranno 12 milioni e 500 mila euro, verificati i tempi tecnici per l'esplodamento della gara d'appalto, che sarà celebrata non prima del mese di febbraio, e la durata dei lavori, almeno un anno, l'opera dovrebbe essere consegnata nel 2019. La complessità per l'intervento, che la regione in modo errato credeva di portare a compimento nel giro di qualche mese, è determinata dal fenomeno franoso della collina, 5 mila metri cubi di materiale. Le indagini geotecnologiche specifiche, sino ad oggi eseguite, hanno fatto emergere criticità ancora in atto, con il rischio di smottamento per un'area ben più ampia di quella già franata.